Citroen C4 Cactus non smette di stupirci con le sue continue trasformazioni, abbiamo portato nei nostri studi la versione completamente white ecco di cosa si tratta è stata una delle vetture che più ci ha colpito alla design week di milano che si è tenuta lo ricorderete lo scorso mese di aprile nel capoluogo lombardo vi avevamo promesso poi di portarla in studio ed eccola qui ci siamo riusciti alla mia sinistra Citroen Cactus nella versione personalizzata white per parlarne vado subito a presentare il nostro ospite di oggi Marco Freschi responsabile ufficio stampa Citroen Italia buonasera Marco buonasera Alessio ovviamente un volto conosciuto nei nostri nei nostri studi però Marco con una vettura che avevamo già visto qui in studio da noi però chiaramente con una personalizzazione totalmente inedita white il nome lo svela fino al principio bianca però non è solo il colore che la caratterizza certo abbiamo voluto proprio caratterizzare una nuova versione di C4 Cactus che è una vettura che fa dello stile il proprio punto di forza su questa versione particolare W abbiamo voluto invece giocare sul ton sur ton cioè sulla nuance dei colori utilizzando come colore base della carrozzeria il colore pearl white accoppiato agli airbump color dune quindi color sabbia per un direi un accostamento cromatico appunto molto molto elegante molto raffinato ovviamente non ci siamo fermati qui abbiamo anche come dire legato tutti gli altri particolari della vettura dalle barre del tetto anch'esse bianche i cerchi molto belli bianchi e anche le calotte dei dei specchietti laterali Marco come dicevamo all'inizio noi abbiamo avuto l'occasione di ammirare da vicino questo modello proprio alla design week di Milano non è una scelta casuale no quella di essere stati per voi di Citroen in questo contesto presentare questa versione così speciale il connubio viene quasi da sé no questa forse la vettura Cactus in generale sulla quale voi avete più osato in termini proprio di linea e il connubio con il salone del mobile probabilmente naturale esattamente così direi che il design per Citroen è proprio un elemento fondamentale e direi differenziante non da oggi da sempre le vetture Citroen sono originali uniche facilmente riconoscibili per emergere però abbiamo scelto proprio quello dello stile come elemento forte caratterizzante oltre a quello della tecnologia ma sicuramente lo stile è il primo elemento di differenziazione e di come dire anche di scelta da parte del cliente allora insieme al centro stile abbiamo voluto proprio spingere su questo aspetto e sappiamo che le vetture come C4 Cactus possono avere anche un effetto un po' polarizzante cioè possono dividere i gusti l'accettazione da parte del pubblico però crediamo che sia un elemento importante che alla lunga darà sicuramente i suoi frutti ci farà emergere da questa arena competitiva di tutti gli altri costruttori per il momento i dati ci danno ragione perché chiaramente non vogliamo essere stravaganti o originali a tutti i costi vogliamo fare degli oggetti di design ricercati ma che abbiano ovviamente un senso e un gusto molto raffinato ecco proprio a questo proposito citando quella che è la tua risposta i numeri proprio su Cactus per quanto riguarda l'Italia che poi come dire il mercato che osserviamo con più chiaramente interesse danno ragione a questa scelta certamente certamente siamo uno dei primi mercati per quanto riguarda C4 Cactus ovviamente dopo la Francia e la Spagna che è il luogo dove viene prodotta fisicamente negli stabilimenti di Madrid arriviamo noi con il mercato italiano quindi sicuramente un ottimo risultato ai clienti italiani la vettura è piaciuta sappiamo che il gusto dei clienti italiani per quanto riguarda lo stile è sempre mediamente più ricercato rispetto alla media europea e quindi diciamo che è venuto abbastanza naturale questo posizionamento questa questa soddisfazione da parte del pubblico che è una soddisfazione soprattutto crescente dopo la design week lo speciale che safe drive ha dedicato a questa care mess dove appunto abbiamo avuto modo di osservare da vicino per la prima volta la Cactus in versione white ci hanno scritto in diversi telespettatori e ci hanno chiesto la vedremo sul mercato italiano è un esercizio puramente stilistico oppure come spesso poi si torna dimostrato nel tempo c'è una concretezza poi di introduzione proprio sul mercato cosa rispondiamo no no la vettura verrà assolutamente messa sul mercato costituirà come dicevo la versione più equipaggiata di punta diciamo così della all'interno dell'offerta della gamma di C4 Cactus disponibile con le motorizzazioni più potenti sempre all'interno della gamma quindi va a costituire il top di gamma il top della raffinatezza per quanto riguarda C4 Cactus e come dire un'offerta parallela per quelle per quei clienti che desiderano una vettura più sobria più elegante più cittadina se vogliamo e che è un elemento forte che ci viene dall'ascolto che abbiamo rispetto al mercato e siamo sicuri che potrà incontrare sicuramente questi le esigenze di questi clienti proprio in questi giorni in queste settimane andate a lanciare sul mercato una personalizzazione molto interessante direi di quella che è la vettura per voi più piccola della city car per eccellenza del vostro marchio sì esatto lanciamo abbiamo praticamente già lanciato la C1 Garmin by Vivofit è una serie speciale che gioca come giustamente accennavi sulla personalizzazione e sulla sulla freschezza della livrea della carrozzeria anche in questo caso giocando sul bicolore è una personalizzazione che oltre all'aspetto esterno si ritrova anche all'interno avremo un navigatore in 3d con i comandi al volante con uno schermo da 7 pollici dotato del sistema mirror screen in grado quindi di riprodurre quello che abbiamo sul nostro smartphone direttamente sullo schermo della vettura un dinamismo che viene anche evocato dalla fit band che viene data insieme alla vettura una fit band che ti può accompagnare durante la tua attività sportiva ti informa su quelli che sono i tuoi progressi dal punto di vista del fitness e che possono essere anche condivisi in rete con il tuo gruppo di amici ecco marco questa versione di c1 quanto costa esattamente allora questa versione parte dai 12 mila 450 euro per la versione con la motorizzazione mille vti da 68 cavalli la versione a tre porte fino ai 13 mila quattro e cinquanta della versione cinque porte mille due pure tech da 82 cavalli grazie a marco freschi per la presenza ricordo responsabile ufficio stampa sito ren italia grazie alessio e buona serata e noi proseguiamo con safe drive